I want paluba, I want bimbo, tulifruti o luda, 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 I want paluba, I want bimbo The zombies are coming Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primissimo episodio con il multiplayer di questo fantasmagorico gioco Oggi siamo con i zombie ma credo che le partite possono capitare come cacchio vogliono Quindi è per quello che finchè non finirò la parte single player non porterò partite multiplayer online, giusto per quello E oggi ci facciamo una partitina online, combatti online contro l'IA o altri giocatori sticazzi Attiva portale, tuffatici dentro Allora, multigiocatore Ping 122, ah però Allora, un posto perfetto per iniziare, non può essere usata nessuna personalizzazione No Elimino il troversale per iniziare la battaglia Battaglia, sì Supremiazza erbosa Gnomba L'altra per il controllo dell'ogn... ok Eliminazione confermata Perfetto Beh, oserei dire di iniziare con un classico deathmatch a squadra Vado dentro No, sto volando Ovviamente la partita è già incominciata, giusto? Ok E mi sceglio questo? Mi sceglio Quanto siamo? 24 a 10 Eila Andiamo, miei prodi Dobbiamo andare a vincere E' nemico lei? Cos'è qualcosa lì? E' nemico? No, il robot sono con noi Oh! Che cazzo è? Che cazzo mi ha ucciso? Eh, vabbè Uno che si chiama Mela E gioca con la rosa Vabbè Tirami su! Imbecilla! Dai Oh! Mega uccisione della vita! E' Mario ucciso quello là No, un k-ulton figlio di No, come si fa a far star zitto? C'è qualcuno? Oh! Tiratemi su! Rigenera ora Allora, aspetta Ho sentito uno parlare, vabbè Via! L1 cosa faccio? Divento una palla? Boh Non lo comprendo Ho le mappe Questa qua è bellissima Buonissima Muori! Muori ma Oh! E vabbè Rimato da Del Jonas One of Beach C'è qualcuno vicino a me? Sì! Mi tiri su! Grazie! Sto facendo fare Migliardi di Di obiettivi agli altri Perché Mi stanno tirando su Che io non lo so Oh! Zimekko! Sì! E mo' sono cazzi a tutti! Ho già visto la mia prima preda Eccola! Kaboom! No, è già finita la partita Vabbè Da che avevo ammazzato uno Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Già finita la partita 50 e 26 Ci hanno sfondato le chiappe Ce ne facciamo subito un'altra Mi sembra più che giusto È logico Eh Tanto qua escono anche i nomi Nella beta Non mi ricordo se uscivano anche i nomi sotto Tanto che aspettiamo ragazzi Ci apriamo due regali Perché mancano ancora 35 secondi Vediamo un po' qua Cosa abbiamo trovato Dai un pezzo Ok Appiccicuno Super appiccicoso Mi sembra più che giusto Scudo di legno erbaccia Caffè freddo Ok Razzo in testa Apparecchio colorato Eh beh Erbaccia scudo di foglia Se scudo di legno No Ah ok Il negozio è chiuso Sta iniziando la partita Dai che sfondiamo le chiappe Atterraggio lunare Questo qua l'avevo provato nella beta Se non erro Poi bisogna anche capire bene se Da diversa modalità Cambiano anche Le zone Perché questa è anche abbastanza ampia Molto ampia oserei dire Quindi non saprei proprio se Eh Sì credo che sia No credo che sia più piccola questa Non so se posso vedere la mappa Non credo però Quai Sì Dobbiamo uccidere Oh Ah no ok Stavo da dicendo cosa cazzo Ci fanno da qua Eh Figa Ma è con noi Ah posso passare qua dentro Molto pene Molto pene Mi piacciono le mappe Perché sono belle colorate Come se mi piacciono a me E cosa ho fatto Non ho fatto niente Yeah Eh vabbè Stavo uccidendo uno Ah vabbè i camper qua Figa ci sono qua Qualcuno che mi tira su No Sì Vieni Ti stanno uccidendo anche te però Vabbè Arrivederci Mi dispiace Devo andare Il mio posto È da un'altra parte Perché non ho Tempo da perdere Cribbio Dove sono? Vabbè qua Me li amassano tutti Non è giusto Perché qua Oh c'è Posso andare Entrare nell'assenziore E però Oh Eh dai Che Che sfica Oh Anquile Muori Oh la Grande amico Zombolino Si chiamano Zombolini Dove sono? Devo capire Spawn Dove sono? No Per un pelo Per un pelo Per un pelo di vagina Spara Ma dai Non l'ho ucciso io Si mecco Dai dai che mi stanno sparando Scabam Scabam E mo son cazzi per tutti Lei chi è amico? Oh Spara Si uno lo voglio uccidere eh Ecco perfetto Quindi quando esplode lo zi meccano Quindi quando esplode lo zi mecco muoio anch'io Mi sembra più che giusto Dai cazzo Mi stiamo tirando su? No Probabilmente nelle 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 altre modalità Ma porterò anche Ovviamente altri Altri personaggini Se non c'è giusto E vabbè che mi fottono Grande Dai la mega uccisione Aio Da dietro Vanno di moda questi Non so se siano aranci o mandaraini Qualcuno che mi salva Nanetto No torno qua Bastardo No ho ancora capito cosa fa là Adesso proviamo a diventare palla Che non ho capito cosa fa Dai cazzarola Vai dentro Il gioco è anche abbastanza stabile Non c'è molta Molta cosa Ah ok Fa tipo una palla Abnorbe No ho capito gli effetti Però vabbè Dove vai? Brutta Schifosa Poi che cazzo è? Una Una rosa? Oh ma Ti stai fermo o cosa? Guarda E vabbè Sei mortale Quella baldraca lì No che stava facendo L'aggancio mortale Con R1 Cazzo è successo? Tiratemi su Ah abbiamo vinto Mi sa che abbiamo vinto Dai Mamma mia la vittoria Sapete come vi dico Me ne faccio proprio Che un'altra di partita Tanto non durano tanto Questa qua Su Deathmatch E non siamo Iuhuuu E cambiamo personaggio Questa volta Sono in debito Di un pacchetto Ce lo apriamo Vediamo cosa troviamo Qua nel pacchettone E beh Grande Ci manca la testa Sì Qua abbiamo trovato La testa incredibile Di uno Pannelli solari Faccia da mappa Bellissimo Sopracciglia boccolosa Zombie con porte Zombie segnaletico Col cinesino Bellissimo Bellissimo L'uscello Ghiacciatello Bellissimo Con i castoroni No cazzo Sono le piante Vabbè Ci prendiamo Di alto Ah Ho questo Che l'avevo sbloccato Col personal zone E questo Ah questo è a tempo Ok ok Vabbè non mi interessa Ci prendiamo questo Perché c'ha L'aglio Non la cipolla C'ha l'aglio che vola Hamburger datati E mi eliminate questi zombie Qui Io mi metto Qua bello gianguillo Orovio no E volo Oh Eh Su Andiamo a mietere Mi stanno già sparando Oh Cos'è sta botta Incredibile Nanetto Mi dispiace Ma Te devo ammassare No Grande che N'ho ucciso uno Con l'attacco di Mais L'attacco Di mais Mamma mia The best Mi dispiace Nanetto Ah La devo Ammassare Porta Miseria Ladra È lento Come la fame Questo È lento Come una cosa Lenta Sì Mi tiri su Cioè Se li becco Bene Ok Ce la faccio Anche ucciderli Perché è molto potente Il raggio Assassino Della morte Chi è quello Là Era sul martello Penneumatico O sbaglio E non sbaglio mica Oh la madonna Tem E beh Mi ha ammazzato Tempo perso Mi sembra più che giusto Ritorniamo Vai con l'aglio Oh Allora Le mappe Ripeto Sono Qualcosa di Bellissimo Bastardo Sto qua Muori Vai Dai Uno che viene qua Così Mi muore Vabbè Mi rubano Tutte Tutte le uccisioni Affanculo Guarda come Le inculano Tutte Quello è già morto Vabbè Che sono già Tutti morti Però Cioè Avete capito No Sono zombie Oh Ma una volta Che ce la faccio Oh Muori E vabbè Mi inculano Tutte le Ma non è possibile Me le inculano Tutte Ancora E vabbè Mi culano Tutte le uccisioni Che Tanto Non so neanche Se ci siano Gli assist Non credo Ne Però Ma porco Demonio Da che voglio fare Lul Qua laggeggia Un po' Ne Qua se bisogna essere Sinceri Laggeggia Un po' Tu cazzo E' andato Ah E vabbè Mi ha ucciso Ah Mi ha ucciso Quello là Con il mega Cannone Da rodeo Bellissimo Sì Tirami su Porca miseria Eh Oh 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 E non l'ho fatta io E non l'ho fatta io Vedete ragazzi Spero che questo Incredibile Episodio Comunque Questa partita Vi siano piaciute In questa ultima partita Mi hanno inculato Miliardi Eh comunque se ne fanno Mi hanno inculato Miliardi Sono in classifica Perché poi Che cosa ho fatto Cosa vuol dire Cioè Ok Che cosa ho fatto Ah Ah I triangolini Sono gli asti Ma vaffanculo Sono finito in classifica Per gli assist Ma Porca Puttana E niente Con Mr. Ken Di qua Vi saluto E ci vediamo Alla prossima partita Multiplaya